Giorgia, anche oggi hai continuato a fare propaganda durante il silenzio elettorale attaccando Virginia Raggi per l'incendio che ieri notte ha devastato il Ponte di Ferro. Questo glielo ho scritto. E continuavo. Sono in corso i sopralluoghi e indagini per stabilire le cause del rogo. Ne sapremo di più, immagino, quando ormai i cittadini romani avranno votato. Ti pongo però una domanda. Ora, non pensi sia strumentale portare gratuiti attacchi in questo particolare momento? Silenzio elettorale. Perché non hai speso una parola sui vari incendi che ci sono stati in questi ultimi anni di bus e cassonetti sui boicottaggi contro l'amministrazione uscente di Roma che ha fatto della lotta contro l'illegalità una priorità assoluta? Se proprio avverti insopprimibile l'ansia di dichiarare, perché piuttosto non condanni in modo fermo le aggressioni e le minacce avvenute nei confronti dei nostri candidati a Nardò, ad Afragola, a Piedimonte Mattese, a Monte Parano. Ci sono stati tanti attacchi, guarda caso, sempre ai nostri attivisti, ai nostri candidati, che sono stati anche malmenati e mandati al pronto soccorso. Poi anche qui vediamo la magistratura che indagherà, però di solito questi bulli si collocano un po' da questo lato dello schieramento, questi bulli che vanno lì a strada a menare e pare che dalle prime ricostruzioni in alcuni casi sia così. Se davvero condividi la reale necessità di rafforzare i presidi di legalità, perché non tagli in modo chiaro e risoluto i legami del tuo partito emersi dall'inchiesta di Fanpage, con saluti romani, inneggiamenti a Hitler, inseguimenti ai migrati, minacce antisemite, sospetti, finanziamenti illeciti? E ancora, lei ha chiesto di studiare i filmati integrali, legittimamente, adesso non so quanto tempo ci metterà, quando li avrà, si prenderà qualche mese, non lo so, qualche anno per studiarli. Però in attesa di studiarti i filmati integrali del reportage di Fanpage potresti avvantaggiarti. Basterebbe dichiarare che rinunci e ripudi nel modo più assoluto a quel 5% di cui ragiona nell'inchiesta un tal soggetto che si chiama Ionghi Lavarini, che rivendica appunto di prestare un 5% e avere a disposizione un 5% di consenso. Ecco, questo sì che sarebbe un gesto coerente e coraggioso. Quindi attenzione. Non ci facciamo insegnare l'etica pubblica e la legalità da chi non risponde a queste lettere, giusto?